Buonasera, buonasera, no, no, non iniziamo a ridere, dobbiamo salutare il nostro pubblico, dare il benvenuto a Chiedimi una canzone, non la posso vedere, ma la Sabrina Musiani mi fa troppo ridere, non lo posso, no, stiamo facendo gossip, questa sera gossip, due donne, certo, quindi se avete problemi sentimentali, di cuore, chiamateci, cuore trafitto, tutte le donne, noi dobbiamo sapere tutto quanto, tutto, intanto anche loro devono sapere una cosa, il nostro numero di telefono per chiamarci, se no come fanno a parlare con noi, allora eccolo qua, 0232 0046244 in diretta, quindi mi raccomando, per chiamare, Clarita, Clarita, Clarita Tormitas, Eugenio Va, e Luca Teruzzi, ecco, chiamateci perché oggi ci sentiamo troppo, vai, ecco, e poi adesso dobbiamo dire l'elenco delle canzoni perché dopo aver parlato dei problemi d'amore possono anche scegliere una canzone, un video per vederlo, ma problemi serie d'amore, sì, non come quelle nostre, no, i nostri sono seri, ma stai scherzando, i miei sono seri, sì, poi, inizia a leggere lì la lista di canzoni, allora posso leggerla da qui, dai, facciamo una cosa in diretta così, dai, 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 allora, ma poi, canta Milano, ma poi, giusto? Sì, sì, bravissima, ma poi sembra un fiore, no, e ma poi, ecco, vai, non fare la clarità, non iniziamo clarità, dai, ma poi canta Milano, abbiamo detto, una ragione in più, Elena Colombari, Anna da dimenticare, Nuovi Angeli, Romagna Mia, Romagna Sandri, Zorbas Dance, Santino Rocchetti, e poi Bruno Laussi con Fai Fai, due parole, che non è quella, dammi tre parole, no, due parole di Daniele Violi, due, due, amo, sei un po' tirchi noi, due, là dove c'è musica, Rodella e degli Ponti, qui abbiamo voluto esagerare, due, due, prezzo di uno, ecco, Alessandra, amor mio, e se bruciasse la città, Marco Grazioli, com'è Marco? Grazioli, no, no, Grazioli, oh, Grazioli, è tanti anni che sei in Italia, carita, eh, va bene, è difficile, Marco Grazioli, grazioli, vai tu, eh, poi abbiamo Male d'anima, vedi, per me è tutto per me, Male d'anima, oh, che dolore, Male, un'avventura, eh, vedi, è stata un'avventura, Gian Piretti, l'uccellino, eh, qui vogliono proprio, non commentiamo, ma mi avete messo in posto questo, Le Mondine, Zoccoletti, Enrico Musiani e Daniele Violi, accoppiata anche qui, e la piccinina Vilma De Angelis, sì, ma che canzone, l'uccellino, l'avventura e Male d'anima, vabbè, poi ecco, Queen of Chinatown, guarda che inglese, Amanda Lear, eh, poi la compagnia di Vanna Leali, Rodolfo Maria Gordini, con Bruno Castiglia e i Bisonti, quindi anche qui tre al prezzo di uno, i Giardini di Marzo, e non è facile, Susanna Zucchelli, e infine l'ultima canzone, Malia, spero, Bongiolatti, l'ho detto bene, no? L'ho detto bene, dai, chiamate, ma prima di chiamare, allora, sai che ieri hanno telefonato, due persone che ti adorano, che anche noi vogliamo bene, però sono i genitori di Luca Teruzzi, ecco, la Teresina e il marito Giuseppe, ecco, ciao Luca, lo salutiamo, che vogliono ascoltare Occhifieri, sai chi la canta, Occhifieri? Eh, ma è Massimo, chi la canta? Una stupenda, è top, guardami, è top, Sabrina Musiani, dai, vediamo il video, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Qualcuno ti ha detto ormai, tu sei finito, solo il tempo per un bilancio ti è restato, hai fatto bene, hai fatto male, solo tu lo sai, tu solo condannarti o assolverti potrai, un altro ormai ha preso il posto tuo, devi metterti da parte, vecchio mio, non c'è più niente che tu possa fare ormai, un'occasione ancora non l'avrai. Ma io mi ricordo che avevi i capelli neri, lo sguardo limpido e gli occhi fieri, tu mi piacevi, non voglio dirti addio, no, quel vecchio sarà sempre l'amore mio. Dove troverai la forza per ricominciare qualcosa? Questa qua, la Sabrina Musiani, bravissima, questa cantante, bella, brava, la devono presentare. Con i capelli da tardona lì. No, stavi benissimo, eri bellissima. No, voglio sapere, meglio giù o meglio su, ma? Ditelo voi, pronto, vediamo se c'è una telefonata, pronto? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Con Clementino. Un uomo, un uomo. Oh, un uomo. Preferisce Sabrina Musiani, con i capelli giù o in su, come il video? Giù o su i miei capelli, Clementino. In giù, in giù, in giù, così stai benissimo. Allora segnali. Grazie, Clementino. Clementino, come stai? C'è un stagione, Clementino. Eh sì, è vero. Oh, Clementino, allora. Tutte due belle. Grazie, grazie, che carino. Buon gustaglio. Siete meravigliose. Grazie, che carino, mamma mia. Ascolta, allora tu vuoi dedicare qualche canzone a... A mia moglie Angela, Romagna Mia. Quale? Ah, Romagna Mia della Romana Sandi, perché volevi tu? Sì, la nostra Romana Nuona. Io volevo quella canzone, Clementino, perfetto. Ottimo. Oh, caro, allora un bacio a te, tua moglie, va bene? Clementino, cosa fai nella vita? Ci vediamo domenica, Clara. Ok, va bene. Ah, qua ti danno gli appuntamenti, hai capito? Eh sì, è domenica, eh. Non dire niente, ci vediamo domenica. Non so, è capito la Clara, la Clarita. Ci vediamo domenica, Clementino. Ci sono anch'io domenica, Clementino. Eh, qui ci vediamo, eh, tutti insieme, va bene? Ciao, Clementino, dai, vediamoci la Romana Sandi. Romagna Mia. Insegniamo a cantare. Romagna. Di diaframma, di diaframma. Va bene, me ne vado. Clara, di diaframma. Ciao, Clementino, dai, vediamoci la domenica.